ben trovati amici e casa rinaldi ritorna un altro caro amico si eccolo qua ho il piacere di ripresentarvi lui maurizio martini ciao maurizio ciao daniela come stai come stai bene siamo fatti un gemellaggio abbiamo fatto un gemellaggio ma noi ormai ce l'abbiamo un po una forma di gemellaggio sì tanto abbiamo molte cose in comune con maurizio martini devo dire che mi fa sempre piacere quando mi arriva il messaggio novità di maurizio martini ci sono presente presente sempre io con daniela eccoci qua allora maurizio martini si stiamo bene va tutto bene bene sì dobbiamo dire così in questo periodo no che ecco dobbiamo mettere il sorriso comunque no anche perché dicono che la sorte per avere una buona sorte devi sempre pensare positivo cercare di avere pensieri e quindi va tutto bene anche se le cose vanno a scatafascio ma va tutto bene certo soprattutto qui vicino a noi no e sì assolutamente anche perché diciamo pure che maurizio è a bologna quindi lui è vicino a una zona veramente devastata perché la romagna è stata distrutta ravenna forlì cesena sono veramente state disastrate anche bologna un po toccata ma per fortuna noi abbiamo avuto un momento soltanto di panico perché si stavano allagando le cantine queste cose però grazie a dio insomma c'è stata la fortuna no insomma che non è accaduto il peggio però abbiamo avuto anche noi quel giorno un famoso giorno che ha fatto vedere tanta tanta paura la paura vera vicino immagino di sì e che tempo fa oggi da te oggi così così discreto vedo si sentono gli uccellini sì 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 ho aperto a costa perché così dobbiamo portare adesso un sorriso e soprattutto soprattutto profumo profumo eccolo qua che profumo adesso non possiamo fare nomi ma comunque un blu è un blu a me piace il blu è un blu è un blu perfetto bene maurizio martini in effetti la cover del suo ultimo singolo profumo blu con il profumo blu che noi vediamo è il titolo del nuovo singolo di maurizio martini dal cuore della primavera che fa da prepista quest'estate 2023 parlaci di profumo maurizio profumo a anche questa adesso cominceranno le le mie versioni no perché faccio ormai mi diverto sempre a riarrangiare alcuni brani però in realtà profumo è la prima volta edito per la prima volta è scritta da franco berrettoni e giovanni giungi questo brano era in realtà un brano creato per le balere pensa è un po l'orchestra no tutte le orchestre le grandi orchestre suonano questo brano e io avevo fatto una versione reg pensa ne ho tirato fuori una versione reg questa volta ho cambiato arrangiamento e arrangiatore ma sono sempre fedele a tutti gli altri perché lavoro sempre comunque con più arrangiatori l'avevo sempre detto questo nelle altre interviste e questa volta c'è una novità perché è l'arrangiatore di un noto uno che c'è qui una frezza bianca che gira tutto si è toccato colorato esatto esatto ma possiamo nominarlo e come no certo si parla di marco ferracini che lavora con cristiano malgioglio e mi sto trovando bene anche con lui e questa nuova versione di profumo ripeto però edita per la prima volta perché in realtà era uscito soltanto su youtube come video eccetera e che lo vedo mi sa in sottofondo questo adesso ho cambiato con il video perché noi adesso abbiamo aperto con la cover del profumo 2023 invece questa è la canzone del gaton dell'anno scorso dove c'è questo video meraviglioso che fa di tuffarsi esatto esatto e quindi con lui abbiamo fatto questa nuova versione che andando adesso nelle radio sembra che piaccia e anche me contento questa cosa e speriamo bene insomma più che altro ecco ripeto è una canzone che parla di ricordi che ci si può ritrovare per un amore no soprattutto ma io per esempio quando l'ho cantata ho pensato a mia mamma per esempio mi è avuta in mente quando lei mi toccava il viso e dico questa frase non le tue mani sul mio viso e non ho pensato a una storia d'amore in quel momento che la cantavo capito quindi è versatile che può essere assolutamente sì assolutamente sì comunque ricordi no questo questo sapore questo profumo di ricordi ecco che il profumo può essere quello che noi utilizziamo adesso in questo momento oppure il profumo anche di un biscotto perché no il profumo certo 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 ah beh dove andiamo a cucire io sono dove andiamo con lei allora diciamolo allora diciamo perché Daniela lo diciamo no perché giustamente di là c'è un bel vassoio di baci di dama che ho fatto ieri sera ho finito stamattina che profumano di nocciola è una cosa strana parla parla possiamo due secondi perché io lo voglio dire agli ascoltatori agli amici Daniela ha un blog di cucina sì di cucina e io seguo ecco quindi vi lascio immaginare io che sono a dieta adesso se vado sul blog di Daniela che succede ecco le fantasie tutte diciamo i ricordi guarda li aggancio i ricordi proprio perché devo essere proprio bravo e ligio nella dieta che sto facendo adesso ti comporti bene sì ho iniziato da poco però ho ripreso la retta via sì sì proprio volutamente volutamente questa volta per salute quindi devo proprio farlo guarda poi bisogna che ti metti anche perché devi ballare il reggaeton esatto per fare questo reggaeton ci vuole agilità eh esatto 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 e proprio di reggaeton io penso che questa canzone andrà molto nelle ballere visto e considerato che proprio settimana scorsa stavamo parlando a cena così una signora fa mi piace tanto per la ballare il reggaeton e mio marito invece non lo vuole ballare mi tocca ballarlo con tutti estranei quindi questa canzone è proprio uscita al momento giusto è adatta sì è uscita già da un pochino però ha visto tutto quello che pensa che la prima intervista Daniela con te lo sai ma dai che bello questo profumo sì 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 siamo proprio beh io lo sai che quanto ci tengo a fare intervista con te quindi mi fa anche molto piacere ecco sì è la stessa lo sai sei un tesoro sei un tesoro Maurizio Martini l'abbiamo visto nell'ultima intervista insieme a Tiziana Rivale un brano molto bello una coppiata molto bella e adesso dopo questo profumo che cosa combini che è già pronto perché sai c'è stato tutto questo periodo di lavoro in studio quindi allora innanzitutto devo pure mantenere visto l'ultima intervista dicevo che avrei fatto delle cover e le ho fatte tutte cioè tutte registrate di sua sono 13 cover cioè da farne quasi un album intero e quindi sono già pronte poi invece adesso abbiamo già riarrangiato e questo subito dopo profumo ci sarà la promozione per tutta l'estate adesso questo periodo ancora che viene appunto fine maggio e giugno con profumo e poi arriverà a luglio di nuovo è un po' un piccolo anniversario di Naufraga ho riarrangiato che è molto bella questa versione sempre con Marco che questo sarà un featuring o correggimi tu perché io l'inglese non l'ho studiato e io come te allora siamo lì e con sempre con Marco Ferracini che abbiamo già arrangiato ed è pronta praticamente questa nuova versione di Naufraga non ti fermi mai assolutamente no ricordiamo che la prima intervista che abbiamo fatto con Maurizio Martini cantava bravi ragazzi di miguel bosè che che figata che figata è bella quella versione pensa al punto che credo o sospetto che qualcuno l'abbia ascoltata perché sa che cosa ha fatto miguel questi ultimi tempi che ha fatto in Spagna cover night pensa ha condotto come diciamo che insieme a Monica Naranco altri artisti spagnoli famosi insomma e faceva il coach credo e comunque sia in giuria con per questo per questa nuova talent però soltanto di cover capito fatto solo esclusivamente di cover senza gli inediti praticamente non lo sapevo questa cosa vedi mi serviva a chiacchierare con te per sapere questa cosa qua ed è finita ora ha fatto diciamo qualche mesetto è stato due tre mesi in Spagna e lui ha cantato ti amerò e Monica Naranco ha reinciso se tu non torni spagnolo la sua praticamente quella il grande successo di miguel guarda io devo dire che di miguel ti amerò e se tu non torni sono quelle due canzoni che mi fanno proprio star male quando le sento ma sai che me le ricordo tutte a memoria non so per quale motivo eppure non è che però all'epoca eravamo troppo innamorati noi di miguel bosè assolutamente ma poi soprattutto ecco per me sempre ripeto stato veramente un gra ed è un grande 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 artista quindi artista con la maiuscola che poi pochi sanno ma questo uomo ha girato veramente il mondo in lungo e in largo perché faceva dei tour lunghissimi di due anni e poi dicevano qui non viene ma sta in tour in tutti i paesi del sud america quindi addirittura con i pullman giravano per i deserti per passare da una città all'altra dico solo questo maurizio martini con noi oggi per presentare profumo profumo inebriante profumo veramente d'estate quello che ci sta presentando e vi ricordo che potete trovare tutti gli store digitali profumo su youtube potete vedere il video del brano dello scorso anno e poi anche di quest'anno che è stato riarrangiato e quindi c'è la cover di profumo sempre di maurizio martini e poi su spotify potete selezionare voi la vostra colonna sonora preferita potete fare la vostra playlist con le canzoni gli artisti che più vi piacciono perché noi siamo quelli che possiamo decidere la musica che vogliamo ascoltare in qualsiasi momento maurizio io ti faccio tanti in bocca al lupo ti auguro buon lavoro vive il lupo prossima io sono qua è alla prossima ciao daniela grazie grazie a tutti gli ascoltatori ciao a presto alla prossima ciao